buongiorno san paolo di nuovo con noi il grandissimo claudio ciao claudio ciao a tutti come state ciao 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 ragazzi e oggi direttamente da quincino boccajuva il nostro ospite alessandro ciao ale ciao a tutti ciao a tutti ma ma dov'è si trova nella periferia nord di rio di genero in brasilia per questo che ce l'abbiamo qui oggi alessandro si tratta l'alessandro alessandro che è un misto di alessandria allora oggi sei gaini ecco gaini e alessandro ale cosa stai facendo a quincino boccajuva a rio mi trovo sono ospitato da una famiglia locale che ho trovato con couchsurfing e sto vivendo qua e rimarrò per otto giorni per poi tornare in italia hai fatto tra l'altro un viaggio molto importante ci dicevi sì ho passato quattro mesi in perù nel centro del perù nella regione di aiacucio poi mi sono mosso a sud con in cile dove sono rimasto per tre settimane sono anche rimasto bloccato a causa della delle proteste poi continuato per l'argentina infine sono qua in brasilia i prossimi passi quali saranno alessandro tornati in italia ripartirò verso l'uganda in africa per un mese e mezzo e da lì in asia verso la thailandia il nevano bene un viaggio di scarpe il volontario viaggiatore grandissimo bene se volete ascoltare capire tutto il viaggio scoprire tutta la storia di ale ascoltateci su www.buongiorno sanpaolo.com.br a breve l'episodio a presto ciao a tutti un abrazzo ciao